Perché i cani sporgono la testa dai finestrini dell'auto? I cani hanno un senso dell'olfatto molto più forte di noi. E quando mettono la testa fuori dal finestrino dell'auto, l'aria li investe ad alta velocità, creando un piacevole sovraccarico sensoriale. Ai cani piace annusare nuovi profumi, e sporgere la testa dal finestrino dell'auto rende più facile assorbire tutto.